Voglio sperare di nuovo perché altrimenti nulla avrebbe più senso, non avrebbe più senso la passione di disimpegno a tutta la politica, non avrebbe più senso lo sforzo di tanti militari, di tanti poliziotti, di tanti esponenti delle forze dell'ordine, non avrebbe più senso se lo Stato abbassasse la guardia nel sacrificio di ragiti che per me è un eroe, l'eroe tra ragiti e chi spara, chi fa passare all'estate e ragiti non sono i casinari. Allora se fossimo in una condizione in cui ormai lo Stato abbassato la guardia e in cui altri decidono con il pollice in alto e il pollice in basso, anche il sacrificio di ragione come ragioni sarebbe male. Io voglio immaginare e non ragionare che non sia così e penso che la politica, le istituzioni devono dare il senso di questa differenza e di questa diversità. La domanda è questa. Matteo Zampini sta compiendo un viaggio nel mezzo al 50, che è la nostra terra, che è la nostra terra. Grazie a tutti.